Eder McPallister Il 2 giugno 2023 un evento culturale unico, l'ordine iniziatico più potente di tutti i tempi, il priorato di Sion ad Altomonte, un luogo magico sospeso tra cielo e terra, la storia oltre la storia. Demetra presenta il suo saggio storico sul priorato del Sion. Sion Eder McPallister Eder McPallister Eder McPallister